Tira aria pesante in Messico di questi tempi, Wheeler. Desperados, pronti ad ammazzarvi per un pugno di dollari? Quindi, Tex decide di andare da questo morisco, quindi uno si aspetta che nella scena dopo ci stia arrivando, o ci sia arrivato invece il film. Mostra loro tre che non fanno altro che camminare, e camminare, e camminare, e ci viene mostrato tutto il percorso che seguono. Camminare, 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 non fanno che camminare! Siamo sicuri che ci sia qualcuno? Hai già voglia di tornare indietro? Hmm, sì! No, no, no! Arrivati dal morisco il film da il meglio di sé, a parte le stronzate fumettistiche che vengono fuori, come Keith che esclama Per satanasso! O Tex che si accende il sigaro con un candelabro! Assistiamo a una scena di suspense da parte del maggiordomo, che sembra dover fare chissà quale azione delittuosa, sembra ordire chissà quale piano, contro i nostri eroi, e invece non stava facendo un cazzo! Il morisco da gran studioso qual è? Riesce a farci scoprire, indovinate un po', che i dardi degli indiani Yakuis sono in grado di carbonizzare le persone! Grazie tante, ciccione! C'eravamo già arrivati! E per dimostrarlo cosa fa? Uccide uno dei suoi piragni! Ammazza un povero pesce! Era necessario sacrificare un povero piccolo pesce! Comunque, sempre grazie a questo geniale personaggio, veniamo a scoprire che le armi servivano al misterioso signore degli abisti e alla sua tribù in rivolta contro l'uomo bianco, una tribù di adoratori di un culto segretissimo! Certamente! È Xute Kutli! Un'antichissima divinità, sai che? Ecco, avete appena sentito nominare Xute Kutli. Xute Kutli è il dio del fuoco della religione azzeca, che qui diventa il dio del fuoco della religione Yaki. La cosa bella è che nel giro di tutta la pellicola il nome Xute Kutli viene nominato da tutti i personaggi in circa una ventina di modi diversi. Il dio del fuoco, Xute Kutli. Accoglilo, Xute Kutli, tra le paterne fiamme! Una statuetta raffigurante Xute Kutli. L'unica cosa di buono fatto dal Maggiordomo Eusebio è seccare il pigro Pablito e nel frattempo è giunto sul posto chissà come. Ma ecco profilarsi l'ombra di un nuovo nemico, è il Dorado, che può vantare non solo un nome assolutamente idiota, ma anche la leadership del gruppo di razziatori che riforniva di armi gli indiani malvaci. Quel cane di Pablito si è fatto seguire come un idiota. Pablito, dov'è ora? All'inferno. Ma è proprio seguendo le tracce di Pablito che i nostri trovano gli uomini di Eldorado e si scontrano con loro. Morti a destra e a sinistra è una terribile lotta furibonda al termine della quale Kit è costruito a praticare l'eutanasia al suo cavallo. e Tiger è rimasto ferito. Fa vedere. È una brutta ferita, ti ci vorrebbe un dottore. per farmi imbottire di pillole. Meglio i vecchi rimedi. Hai ragione. No, no. Sarebbero questi nell'universo bonelliano gli antichi metodi tradizionali di cura indiana lavarsi ogni ferita con dell'acqua e poi in quel pozzo c'è morto un uomo, cazzo! Non credo sia tanto igienico. Ricordiamo che nel frattempo quell'infamone di Eldorado è scappato uccidendo uno dei suoi e fregandogli ai cavalli. Ma i nostri hanno per questo povero tizio l'ultimo gesto di pietà umana. E no, eh? E no, 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 no. Notando che Tiger è ferito e che la cura della sua persona non è particolarmente brillante Tex decide di proseguire da solo e invita i suoi amici a rincontrarsi successivamente in un posto chiamato Pozzo degli Avvoltoi Pozzo degli Avvoltoi Pozzo ideale per un appuntamento Così Kit e Tiger arrivano al Pozzo degli Avvoltoi Si chiama Pozzo degli Avvoltoi Pozzo degli Avvoltoi, cazzo! Dove cazzo sono gli Avvoltoi? Un posto così allegro che neanche quelle bestiacce ci vengono più Bella spiegazione del cazzo Ah ah, come no! Il film non aveva il budget per avvolto i veri, eh? Kit e Tiger arrivano quindi al Pozzo Subito dopo sono vittima di un agguato e vengono catturati Te l'avevo detto che rimanendo nascosti nella sabbia per giorni prima o poi sarebbe arrivato qualcuno Nel frattempo assistiamo a una sorta di momento romantico fra Tex e il suo cavallo Un po' disturbante Un po' Tex si rivolge allora a Magua buono, vecchio e saggio, pacifico capo indiano che non vuole partecipare alla rivolta degli indiani della Sierra però ha uno screzio con il ribelle figlio del capo Ti aveva offeso era tuo diritto uccidere Ma certo Tex, serviti pure potevi uccidere mio figlio per un cazzo di litigio buono, saggio e pacifico un par di palle Magua Interessiamoci ora a cosa stiano facendo i cattivi del film Kid e Tiger ricordiamo sono fatti prigionieri da questo perfido e carismatico personaggio malvagio interpretato da Flavio Bucci Al Signore del Fuoco Le vostre grida strazianti si leveranno sino al cielo ed è proprio dal cielo che scaturirà la nostra forza Parlo Piano per dare più peso alle mie minacce Sai cosa ti dico puoi anche andare all'inferno Oro non hai altro nel cuore No avrò la ricompensa quando arriveranno i fucini Non erano questi i patti Ho cambiato il nostro codo prega che non lo cambi ancora El Dorado invece sembra aiutare gli indiani solo perché è interessato al misterioso Oro di Tulak è quello che penso che sia è bellissimo Volete sapere di chi parliamo quando parliamo di Tulak? Eccola Eccola veramente dietro alla rivolta degli indiani l'affascinante principessa Tulak La principessa ci ricorda dunque che la donna che striglia i cavalli che è comparsa per circa 12 secondi non è l'unico personaggio femminile del film Anche se in teoria il principe Tulak dovrebbe essere un uomo ma perché rinunciare a mettere una gnocca nel film? La principessa Tulak ci conduce allora nelle segrete portandoci dal signore degli abissi il custode del potere di Xiu Tecutli e indovinate il film cosa ci mostra? Lei che cammina e cammina e cammina cammina Onore e gloria a te signore degli abissi Anche a te nobile Tulak Fermi un po', fermi un po', fermi un po' Fatemi risentire quella voce Il fuoco di Xiu Tecutli ha ormai divorato gran parte del nostro corpo per satanasso Ma... ma questa è la voce di Kit Carson? Brutto bastardo doppio giochista Grazie a te